Questa sera sono salita in camera e ho ricordato il mio primo video, quello dove apro l'armadio, prendo il primo abito che mi capita, lo indosso per stare meglio. Allora ho pensato perché non fare lo stesso anche oggi e mi sono ricordata di questo. Questo abito che l'ho messo soltanto per Capodanno un anno fa, allora questa sera lo voglio proprio provare con magari gli stivaloni alti e le calze, perché no? No, è vero, è un po' cappariscente, ma in fondo, anche se sembra un abito scenografico, siamo soltanto qui per fare prove. A dire il vero sembra proprio un abito da spettacolo, eh? Beh, io adesso lo metto, tanto siamo anche nel periodo di carnevale, ma non ci sono tanti spunti per fare festeggiamenti, ad ogni modo creiamoci ugualmente il nostro breve spazio di benessere. Grazie. Così con una bella calza scura velata. Così con una bella calza. Sì sì, queste sono proprio quelle giuste. Così con una bella calza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.